Un posto al sole anticipazioni. 21 maggio 2024. Diego al salvataggio di Raffaele, ma Roberto è indomabile. Diego cercherà una soluzione per salvare suo padre dall'ira di Roberto, ma finirà lui nel mirino di Ferri. Tra Roberto e Raffaele è scoppiata una lite furiosa. Il Giordano riuscirà a scampare alla sete di vendetta di Ferri? Roberto è una furia incontrollabile e a nulla varranno le parole di Renato e Filippo, che cercheranno di calmarlo. La sua vendetta comincerà con il chiedere che venga rinunita un'assemblea di condominio per decidere del futuro del portiere, che rischierà di essere cacciato. La presenza di Claudia sta diventando un vero problema per Mariella. Il matrimonio dei delbue finirà per sgretolarsi?